Buongiorno a tutti e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento medito. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare il like e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati. Delle forti piogge sono in arrivo tra oggi e domani e domenica, specie al centro con anche alluvioni. Una forte ondata di maltempo che verrà innescata dall'ondata di freddo in arrivo stanotte. Questo freddo darà origine a una massa d'aria calda in risalita dal nord Africa. A un vortice ciclonico gelido. I valori di pressione infatti crolleranno a 1000-1010 etto pascal sull'ovest sardo. L'approfondirsi di questo vortice ciclonico verrà anche alimentato da due masse d'aria contrarie. Questo vortice poi andrà verso est andando a colpire le coste laziali e toscane. Non escludiamo il convolgimento del nord dove si formeranno anche abbondanti nevicate a causa di temperature negative al suolo. Precipitazioni piovose colpiranno tutto il centro. Attenzione soprattutto anche a precipitazioni a carattere alluvionale tra bassa Toscana, Umbria e Alto Lazio. Con anche accumuli di 100-150 mm di acqua. Neve a 1000-1500 metri in appennino. Con accumuli di 40-50 cm di neve sull'appennino tosco emiliano e marchigiano. Per ora è tutto e nel prossimo appuntamento meteo. Grazie per la visione. Grazie per la visione.